passerò la mia vita a combattere per questi poveri pesci rossi partiamo motivo numero uno che è il più importante il pesce rosso è un carassio quindi un pesce da laghetto quindi ha bisogno di tantissimi litri non di una boccia come si può pensare infatti un pesce ha bisogno solo lui di 100 litri almeno a testa numero due il pesce rosso può diventare anche 30 centimetri quindi più grande di una boccia numero tre le bocce sono illegali ebbene sì infatti acquari sotto i 25 litri sono illegali numero 4 le bocce essendo sferiche portano alla morte del pesce perché il pesce continua a girare sempre intorno fino a morire infatti bisogna usare solo ed esclusivamente acquari con gli angoli numero 5 prima di inserire un pesce in un acquario bisogna fare la maturazione ovvero si devono formare dei microorganismi fondamentali per la sopravvivenza del pesce numero 6 gli acquari hanno bisogno di un filtro numero 7 gli acquari hanno bisogno anche di una luce infatti se non c'è la luce per un pesce rosso vi diventerà bianco numero 8 vi prego non mettete piante finte in un acquario solo ed esclusivamente vere perché sono importantissime lo so che i pesci rossi le mangiano infatti ci sono tipi che loro non mangiano ovvero criptocorine valdisneria anubias e altre che adesso non mi ricordo numero 9 come fondo io utilizzerei della sabbiolina comunque non più grande di 3 4 millimetri soprattutto scura per non stressare i pesci numero 10 quando dovete inserire o cambiare semplicemente dell'acqua dell'acquario non dovete prendere l'acqua del rubinetto e buttarcela dentro questo perché ha il cloro che è tossico per i pesci infatti prima di inserirla in un acquario va fatta decantare almeno per due giorni ci sono tantissimi altri motivi ma per ora 10 bastano